Ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Siglia e oggi, nuovo video! Ragazzi vi ricordo che se avete piacere e volete seguirmi su Instagram, detto questo, andiamoci dentro col video! Oggi ragazzi voglio parlarvi di un caso davvero triste che quando ho scoperto mi ha colpita tantissimo. Ho letteralmente continuato a fare ricerche senza neanche rendermene conto, in quanto il mio fine ultimo in questo caso non era fare un video. Dopo aver scoperto tutta la storia, io ve lo giuro, non sono riuscita a togliermela dalla testa. Continuovo a pensare e a ripensare a questo terribile caso e quindi oggi sono qui per parlarvi della storia di Michael McPhilpot e di sua moglie, Myra Duffy. Partiamo immediatamente a delineare il passato di queste due persone. Michael McPhilpot è nato nel 1956 a Derby, una città situata nella contea di Derbyshire. Della sua infanzia si sa poco o niente, quindi non posso dirvi con certezza se abbia vissuto in una famiglia disfunzionale o meno. Mick è poi l'amoroso e gli era addirittura diventato famoso in Emilia Britannici per la sua numerosa famiglia. Aveva avuto ben 17 figli da diverse donne. La dipendenza e i sussidi statali quindi è un passo abbastanza prevedibile. Il punto è che Mick non conduce una vita da innocentino e soprattutto non è assolutamente un uomo di buon cuore. Il suo atteggiamento nei confronti delle donne è sempre stato descritto come violento e manipolatore. Col parelle bisogna di avere tutto sotto controllo. Arriviamo quindi a luglio del 1978. Mick aveva 21 anni, lavorava nell'esercito e frequentava una donna di nome Kim Hill. Pensate che lei aveva 17 anni e i due erano ormai fidanzati da due anni. Di conseguenza se la matematica non hanno opinione i due hanno iniziato una relazione quando Kim aveva 15 anni. Michael ha già dimostrato degli atteggiamenti violenti e pesanti. L'uomo ha colpito Kim quando il secondo suo modesto parere il vestito che indossava era troppo corto. Oltre a ciò lei ha anche fatto seriamente male a un ginocchio in quanto tra i due c'era stata una lite a causa del nuovo lavoro di Kim. Faceva le babysitter e quindi passava troppo tempo con il figlio di un'altra famiglia. Questo è bastato e avanzato per farlo scattare. Ad un certo punto Kim, arrivata allo stremo, aveva deciso di lasciarlo addirittura con una lettera. Perché era arrivato a un punto in cui non voleva più avere niente a che fare con lui. Non aveva assolutamente intenzione di rivederlo in quanto aveva superato decisamente il limite. Kim aveva anche chiamato sua madre per aiutarla nei momenti successivi alla rottura. Ma la verità è che Mick colpisce. Durante una notte si introduce a casa di Kim per poi pugnalare lei e sua madre. Fortunatamente si salvano entrambe, mentre l'uomo nel 1978 viene condannato per tentato omicidio e lesioni gravi. Ebbene, qual è la condanna? Sette anni di prigione. Però Mick, dopo tre anni e due mesi, è libero come un uccellino. Il punto è che anche dopo la reclusione, le relazioni di Mick sono sempre circondate da controllo e violenza. Infatti arriviamo al 1987 quando Mick ha sposato Pamela Lomax, dalla quale ha avuto tre figli. Due maschi e una femmina. Pamela non ama assolutamente apparire sui giornali, infatti non ha trovato una sua sola foto online. Però ha ammesso che non vedeva l'ora di vederlo sparire. Pamela infatti aveva notato che suo marito non era proprio avvezzo alla fedeltà. Quindi è semplicemente sperato con tutta se stessa che l'uomo trovasse presto un'altra ragazza per posare la sua attenzione su di lei e quindi di conseguenza anche il suo controllo assurdo ed assoluto. E infatti è accaduto proprio questo. A 37 anni Michael incontra Heather Kiyoi che ha amala appena 14 anni. La incontra a Rainworth, un villaggio nella contea del Nottinghamshire. La relazione va avanti in gran segreto per due anni. Anni nei quali Michael gonfia le fantasie della ragazza di Heather. Le dice che sarebbero stati bene assieme e finalmente soli e senza alcun ostacolo. Mick dice a Heather che sarebbe stato dolce con lei. Le avrebbe regalato una grande casa e una vita bellissima. E quindi arriva il giorno in cui Heather scappa di casa. Quello è il giorno del suo sedicesimo compleanno e Heather scappa per coronare il suo grande sogno romantico. Ebbene la coppia anche in questo caso ha avuto due figli, due maschi per l'esattezza, in rapida successione. Ma in me, Michael, voleva una femmina. E quindi al posto di stare vicino a Heather per riuscire a raggiungere insieme questo traguardo, sperando ovviamente con lei, pensa sia giusto mettere le mani addosso. Perché era colpa sua se non riusciva a mettere al mondo una dannata figlia femmina. E di chi altri se no? Heather sostiene che Mick insegna ai suoi figli, quando iniziano a crescere, ad essere violenti. Ma non solo con il prossimo. Anche con la loro stessa madre. In pratica Mick voleva che Heather rimanesse ancora in stato interessante, cosa che però non è avvenuta. Per fortuna di Heather, oserei dire. Dopo Heather è arrivata la protagonista della nostra storia, ossia Myred Duffy. Una madre single di 19 anni, nata in Inghilterra e da una famiglia orlandese. Myred si è già lasciata alle spalle una relazione totalmente instabile. Quando incontra Mick nel 2000, ci mette poco a trasferirsi a casa sua. Mick, come già vi ho detto all'inizio del video, è poliamoroso. Quindi, mentre sta con Myred, inizia una relazione con Lisa Willis, un'orfana di 16 anni e madre single. Lisa Willis, quindi, diventa l'amante di Mick. Ma nonostante ciò, Myred accetta questa situazione e decide di sposare Mick nel maggio del 2003. Lisa Willis, ossia l'amante di Mick, fa addirittura la damigella d'onore a Myred durante il matrimonio. Il punto è questo. Mick ama controllare ogni aspetto della vita delle sue compagne. Dal più serio al più insignificante. Mick deve sapere quanti siano le loro finanze, quale sia il loro lavoro, i loro amici e i posti che frequentano. Mick ha questo comportamento schematico che utilizza con tutte le sue compagne, comprese Myred e Lisa. Ad un certo punto, i tre si trasferiscono tutti insieme in una casa a Victory Road. Però, la relazione tra Michael e Myred non va molto bene. La donna è spaventata da lui in quanto è controllata costantemente. Di conseguenza, fa a Mick tutti gli acquisti, dal primo all'ultimo. Va direttamente lui a fare spesa a quel fine di controllare ogni singola uscita monetaria. Le due ragazze, Myred e Lisa, non hanno soldi per sé. E se vogliono qualcosa, devono chiederlo a Mick con molto rispetto. Per aspettare che lui decida se avrebbero potuto averlo, oppure no. Essendo un uomo autoritario, ovviamente Mick dà l'oro degli ordini. Che può essere, pulisci casa, prepara mio ente, lava la tazza che ho sporcato, lava il piatto che ho sporcato, lava lì dove ho sporcato. Le due donne non si sono mai tirate indietro, accettando l'autorità di Mick. Intanto il tempo passa. In Mick si crea una famiglia con entrambe le donne. Ed in pochi anni, in quella casa a Victory Road, arrivano ad esserci ben 11 bambini. Ovviamente questa condizione, in quanto particolare, inizia ad attirare l'attenzione della comunità. Fino a quando Mick, nel 2006, fa un annuncio col fine di ottenere una casa popolare più grande. Ovviamente Mick non ottiene assolutamente una casa popolare più grande. Però in effetti, ad un occhio esterno, sembra davvero che tutto vada bene. Pare che le due donne e i rispettivi bambini siano bene, in salute e felici. Quei bambini non si lamentano mai di nulla. Dopodiché arriva un giorno in cui Michael decide di parcheggiare la sua roulotte, che blocca il passaggio per arrivare alla porta sul retro. Iniziano a dormire lì e alternando la donna con cui dormire. Una sera Mayrell, una sera Lisa. Ed è in questo modo che passano gli anni. Ne passano 12, per l'esattezza. Quando iniziano a notarsi segni di serio cedimento nel rapporto tra Lisa e Mick. L'amante di Michael, sia Lisa, è stanca di non aver mai ricevuto un riconoscimento ufficiale. Lisa è sempre stata la più forte e il fatto che lei e Michael non siano mai convolati a nozze l'ha sempre portata a dire e a ripetere negli anni che prima o poi se ne sarebbe andata. Perché quella non è la vita che Lisa desidera davvero. Arriviamo quindi a febbraio 2012, quando Lisa prende su baracche e burrattine e decide di andarsene, portandosi con sé anche i suoi cinque figli. Ovviamente questi cinque figli li ha avuti da Mick. L'uomo, come è prevedibile che sia questa situazione, non riesce minimamente a tollerarla neanche per sbaglio. Lisa ha deciso di prendere il controllo. Ha deciso di prendere il controllo della sua vita. Ha preso i suoi figli e se ne è andata. Una situazione del genere Mick non l'ha mai vissuta e quindi non riesce minimamente a farsene una ragione. Continua a parlare e non fa altro che pensare a come riprendersi i suoi figli. E in un certo senso per questo allontanamento in colpa a Myred. Perché se lei non ci fosse stata, Lisa probabilmente sarebbe rimasta. Quindi a questo punto rimangono Mick, Myred e i loro sei figli nella casa a Victory Road. Mick è profondamente arrabbiato per l'abbandono da parte di Lisa. Quindi decide di provare a percorrere le vie legali per ottenere la custodia dei loro cinque figli. Viene quindi fissata un'udienza al tribunale per l'11 maggio del 2012. Peccato che nessuna delle due parti si presenta. Ed è proprio l'11 maggio del 2012 che accade qualcosa di terribile. A Victory Road scoppia un incendio che la stampa ha riportato come l'incendio della casa di Allenton. Che cosa è successo? Ebbene, quello stesso giorno i vicini si sono svegliati poco prima dell'alba e si è palesato dinanzi a loro uno spettacolo scioccante. Jamie Butler si sveglia, guarda fuori dalla finestra e vede chiaramente una fiammata uscire dalla porta d'entrata dei vicini. Jamie quindi preso dal panico sveglia suo fratello Darren. Inizialmente Jamie riesce solo a dire al fuoco e quindi Darren inizialmente pensa che ci sia un incendio a casa loro. Poi guarda anche lui fuori dalla finestra e vede la casa di Mick e Myred. È la loro casa che sta andando a fuoco. Le fiamme come già vi ho detto escono dalla porta d'entrata. Ed Darren in poco tempo si precipita in strada, ma entrare dalla porta principale oramai è praticamente impossibile. Inoltre dalle finestre è evidente che stia uscendo davvero tanto. Troppo fumo. Tutti i vicini accorrono nel tentativo di salvare i sei uccidini che dormono al piano superiore della casa. Jamie di conseguenza cosa fa? Corre lungo tutto il perimetro per cercare un altro ingresso. Ma a un certo punto si trova una roulotte di fronte che blocca il passaggio. L'uomo però non ci pensa, è totalmente preso dall'adrenalina, quindi ci salta sopra, lo supera e vede Mick e Myred nel giardino sul retro immobili. Inizialmente non ci fa caso e prova ad entrare in casa trovandosi dinnanzi a un vero e proprio labirinto. C'è un tavolo da biliardo, una serra, dei cani che non smettono un secondo di abbaiare. L'alarme antincendio fischia incessantemente e c'è pure un papadallo che fa i versi. Ma soprattutto in quella casa c'è tanto, troppo fumo. Jamie cerca in continuazione di andare verso il secondo piano, ma inutilmente. Più si avvicina, più nel secondo momento deve allontanarsi. L'incendio sta proseguendo e Jamie realizza che se avesse provato ad avvicinarsi al secondo piano sarebbe venuto a mancare anche lui. I vicini tentano in continuazione di dare una mano, ma inutilmente. Tutti i bambini sono rimasti nell'inferno della casa di Victory Road. Jade, John, Jack, Jaden e Jesse vengono a mancare nelle loro stanze. Mentre il figlio più grande, il tredicenne Dwayne, è gravemente ferito. Arrivano quindi i pompieri che estinguono l'incendio e i soccorsi che portano via i bambini. Appena conclusa la frenesia di quel momento, tutte le persone iniziano a notare il comportamento alquanto sospetto di Mick e Myred. I due non stavano facendo assolutamente nulla. Non sono neanche corsi verso Jamie per chiedergli qualcosa, qualche notizia dei loro figli una volta uscito dalla casa. Myred e Mick sono senza alcuna emozione. Rimangono impassibili. Sembra che non gliene freghi nulla della tragedia appena avvenuta. A questo punto i vicini si rendono conto che mentre cercavano di soccorrere i loro figli, Myred e Mick se ne stavano lì imparati a guardare senza fare assolutamente niente. Di conseguenza col passare dei minuti, Darren Butler, il vicino di casa, si rende conto che i due coniugi sembrano davvero spaventati, come se fossero consapevoli di aver fatto un enorme guaio. Una volta donate le fiamme, la polizia ovviamente si mette a lavoro e quindi cerca indizi per individuare chi possa aver appiccato quell'incendio. E ben presto gli investigatori si rendono conto che quell'incendio non è scoppiato a causa di un incidente. La polizia infatti ha stabilito in un primo momento che le fiamme si sono propagate dalla porta d'ingresso e dalle indagini congiunte da poliziotti e vigili del fuoco, è chiaro che le fiamme si sono state appiccate volutamente. Una volta stabilito che si trattava di incendio doloso, ovviamente sono iniziate le indagini per capire chi possa aver commesso quel gesto estremo. La prima ipotesi formulata dall'investitatore è che dietro tutta la faccenda ci fosse l'amante di Mick, ossia Lisa Willis. La ragazza quindi viene ben presto arrestata, ma questa si rivela una falsa pista. L'ex amante di Mick viene rilasciata senza alcuna accusa, mentre le voci sulla famiglia Philpott si moltiplicano, anche a causa del comportamento di Mick e Myred, che, ad essere onesti, appare davvero incomprensibile. Il figlio più grande, Edwane, viene trasferito in una struttura a Birmingham e Mick non vuole andare in ospedale perché quel giorno sarebbe dovuto apparire in tribunale. Di conseguenza Mick vuole far andare sua moglie, dal loro figlio, in ospedale da sola. Chiunque però gli fa notare che questo è un comportamento alquanto assurdo. E quasi lo costringono a salire in macchina per andare a trovare suo figlio in ospedale. La madre di Myred e sua sorella minore sono arrivati in ospedale più o meno le due del pomeriggio. La madre e la sorella minore di Myred quindi chiedono ai genitori di Dwayne se possono aiutare, si offrono di dar loro il cambio per permettere a loro di andarsi a dare una rinfrescata, rilassarsi. Ebbene, Myred e Mick tornano in ospedale alle 11 di sera. In pratica sono stati via per ben 8 ore. Due purtroppo viene a mancare il 14 maggio, esattamente 3 giorni dopo l'incendio. Nel frattempo le indagini su questo incendio continuano e Mick e Myred non si sono ancora resi conto di essere i primi sospettati. Nelle settimane successive all'incendio ovviamente tutta la comunità cerca di stare vicina alla coppia, di confortarla. Poi però iniziano a girare strani voci su Mick e Myred. Si dice che i due alloggino in un motel vicino all'ospedale in cui sono presenti i loro sei figli. In quel periodo Mick ha iniziato a gironzolare chiedendo soldi. E in effetti una comunità gitana gli dona un boato di soldi, miliardi di sterline, proprio col fine di aiutarli. In realtà Mick chiede aiuto a diverse comunità, da quella asiatica a quella Sikh. Racconta a tutti di aver perso casa e figli in un incendio. Riuscendo quindi a raccivolare un bel gruzzoletto, che lui e Myred, vanno a spepperare facendo shopping e bevendo nei pub in cui ci sono serate i karaoke. Ad un certo punto la coppia decide anche di andare a trovare i butler, ossia i vicini che la settimana prima, ossia la sera dell'incendio, avevano provato ad entrare in casa col fine di mettere in salvo i loro figli. Inizialmente Darren e Jamie, i due fratelli, sono convinti che i due coniugi siano passati per ringraziarli. Ma quando Mick e Myred arrivano in cucina, Darren nota chiaramente che nei loro occhi non c'è alcuna traccia di emozione. Non sono neanche minimamente commossi, niente di tutto ciò. Non appaiono dispiaciuti, disperati, anzi, sembrano addirittura alle grotti. Darren, nonostante il loro comportamento bizzarro, decide di andare ad abbracciare Myred, che però è presa alla sclopista e quindi rimane immobile. Non ricambia neanche l'abbraccio. All'un certo punto Mick si rende conto che, insomma, stanno destando un po' di sospetti e quindi prova a inscenare un pianto imbarazzante, ma il destro è assolutamente non credibile. Infatti Detective, dopo aver appurato che l'ex amante di Mick non c'entra nulla con questa faccenda, inizia a tenere d'occhi lo stesso Mick e sua moglie Myred. La polizia finalmente ha stabilito con certezza che l'incendio è partito dall'interno dell'abitazione. Di conseguenza la coppia e l'amico di famiglia che quella sera si trovava in casa, ossia Paul Mosley, viene messa sotto sorveglianza. Vengono anche piazzate delle cimici nella loro camera d'albergo, in quanto i due ci hanno passato parecchio tempo lì dentro. E infatti la polizia, proprio durante il loro soggiorno in hotel, ha effettuato delle intercettazioni che poi sono state usate contro di loro in tribunale. Tra le conversazioni sussurrate e analizzate, è venuto fuori questo scambio tra Mick e Myred. Mick dice Che cosa hai detto alla polizia? Hai parlato di quante volte sono salito? Myred risponde Non potevo, non so quante volte sei andato su. Michael continua Hai detto però che volevo rientrare in casa? Myred risponde Ho raccontato che hai fatto il possibile, che saresti anche corso tra le fiamme. E a questo punto, ecco che arriva la parte di conversazione a quanto si aspetta. In quanto, Mick chiede a Myred Mentre dicevi tutto questo, piangevi? La donna sussurra un sì e quindi Mick continua chiedendole Tanto? Myred ribatte No, non tanto, ma un po' pianto. A questo punto pare che Mick e Myred siano convolti nella tragedia. Non fanno assolutamente nulla per sistemare la situazione e, più passa il tempo, più si ritrovano totalmente braccati. Non so ne cosa dire, ne cosa fare. Non riescono neanche a dimostrare dispiacere. Pensate che Mick va in giro per il quartiere a tirarsela con i suoi vicini Facendo vedere quanti soldi è riuscito a ricavare a causa della disgrazia che l'ha colpito. Questa è una cosa un po' sospetta, santo cielo. Se ti sono venuti a mancare i figli in un incendio dieci giorni prima Come puoi andare dai tuoi vicini per tirartela dell'aiuto economico che ti stanno dando? 11 giorni dopo l'incendio, i due coniugi, quindi Myred e Mick Organizzano di loro iniziativa una conferenza stampa. E in effetti per gli inquirenti questo è uno dei momenti più cruciali del caso. Mick ha ringraziato la comunità, i suoi vicini, le forze dell'ordine, i pompieri Ma non ha dedicato alcun contributo ai suoi figli. Non ne ha neanche parlato, non li ha neanche menzionati. Questa conferenza stampa dura in tutto 4 minuti e mezzo. Mick si porta le mani agli occhi fingendo di piangere Mentre Myred e T nello sguardo basso rimane stretta a suo marito e non dice nulla. Non fiata, non emette un solo sibilo, non dice una sola parola. Dopo aver visto la conferenza, i vicini, che erano intervenuti la sera dell'incendio per aiutare i due coniugi Ossia Darren e Jamie Butler Decidono che è giunto il momento di smettere di tacere E, guarda caso, un agente busta la loro porta Chiedendo loro cosa avessero visto realmente la notte dell'11 maggio del 2012 A quel punto Jamie e Darren dicono che hanno davvero urgenza di parlare con qualcuno Perché quella sera qualcosa di strano l'avevano notato e non riuscivano più a tacere le loro impressioni A questo punto Darren e Jamie sono letteralmente investiti da una squadra di detective Chiedendo loro di raccontare e di raccontare la loro versione dei fatti La verità qua è una ed è indiscutibile Myred e Mick se ne stavano fuori Guardando la casa a bruciare Senza fare niente Mentre invece Darren ha tentato di aiutarli cercando di entrare in casa Darren e Jamie raccontano agli inquirenti anche che pochi giorni dopo l'incendio Circa una settimana dopo i due coniugi sono andati a fargli visita E non sembravano dispiaciuti Non sono andati a fargli visita per ringraziarli dell'aiuto Anzi, erano tranquilli come dei papa Sorridevano anche E se la tiravano con i vicini Dimostrando che un sacco di persone gli avevano donato dei soldi a causa della loro disgrazia A quel punto la polizia inizia davvero a vederci chiaro Iniziano a collegare i vari tasselli Perché anche secondo le indagini della polizia si finiva inevitabilmente a Myred e Mick Però questa testimonianza dei vicini di casa È essenziale per arrestarli il 29 maggio Con l'accusa di omicidio Sono passate due settimane dall'incendio Poco dopo si viene a scoprire anche che un altro uomo amico della copia Ossia Paul Mosley Era colore in casa e aveva noto dell'incendio Sia Mick e che Myred affermano praticamente la stessa cosa quando parlano dell'incendio Sostengono di aver visto una luce arancione molto brillante E di aver poi sentito un botto I due coniugi di conseguenza stanno descrivendo entrambi l'accensione di un fuoco Il punto è che non avrebbero dovuto né vederlo né descriverlo allo stesso modo Con le medesime parole se non avessero appiccato loro stessi L'avvocato dell'accusa se ne è accorto immediatamente E ha accusato la copia di aver cospirato Accordandosi precedentemente sulle testimonianze da rilasciare Un'ennesima cosa che hanno dato l'avvocato Guardando le registrazioni dei vari interrogatori È che mentre Michael sostiene di aver visto il fuoco di vampire dall'altra parte della stanza I suoi gesti invece indicano chiaramente anche se involontariamente Che le fiamme quasi gli sono arrivate in faccia Cosa impossibile visto che tra lui e le fiamme c'erano almeno 8 metri di distanza Alla fine del 2012 le accuse contro Mick, Myred e Paul cadono Ora si parla di omicidio colposo In quanto l'accusa non è in grado di provare che in effetti I tre imputati volessero davvero far fuori le loro creature Di conseguenza si sono semplicemente resi responsabili della loro dipartita Il processo inizia l'11 febbraio del 2013 E la sorda storia della famiglia Philpott viene a galla Si viene infatti a scoprire che Paul e Mick erano grandi amici E Mick amava condividere sua moglie con lui Una delle prime prove presentate alla corte È la telefonata che Myred ha fatto la rotta dell'incendio Ascoltando la chiamata si sente Myred che parla in modo abbastanza tranquillo Spiega la situazione e chiede Un'ambulanza, i pompieri e una battuglia Questa situazione in tribunale destra molti sospetti In quanto secondo gli avvocati dell'accusa Se vieni colta di sorpresa a causa di un incendio La prima cosa che viene da fare è chiedere l'intervento dei pompieri Poi al limite chiede l'intervento delle forze dell'ordine e dell'ambulanza Il fatto che Myred abbia immediatamente chiesto un aiuto medico In tribunale è un segno rivelatore Il fuoco l'ha piccato lei Con suo marito e il loro amico in comune Paul Durante la chiamata che ha fatto Myred Si sente poi alla fine Prima che lei agganci La voce di Mick Che urla Non riesco ad uscire Ebbene quella sembra l'esclamazione di una persona Che tenta di scappare da un pericolo imminente Non certo di qualcuno che sta tentando di rientrare in casa In aula dopo le varie prove presentate Inizia ad emergere un quadro davvero preoccupante e grottesco Ma tristemente reale Qualche settimana precedente all'11 maggio Paul, l'amico in comune di Myred e Mick Era andato ad acquistare della benzina Proprio per appiccare l'incendio Volevano che sembrasse che qualcuno Avesse rovesciato del combustibile Nella cassata delle lettere Ovviamente col fine di dar fuoco alla casa Ma Mick avrebbe preso l'estintore Avrebbe spento il fuoco E sarebbe diventato un vero e proprio eroe Mick quindi pensa che il mattino dopo Avrebbe avuto una possibilità in più Di ottenere i figli fatti con la sua amante Lisa Purtroppo però la storia non è andata così In quanto il fuoco è andato rapidamente Fuori controllo prendendoli di sorpresa A quanto pare infatti Mick aveva fatto dei lavori in casa E aveva dipinto le scale di legno Che portavano al secondo piano Con una vernice per barche Che è altamente infiammabile Quel tipo di vernice non dovrebbe mai essere usata in nessuna abitazione Mai Ecco spiegato come il fuoco ha raggiunto il piano superiore In modo così tanto veloce Inoltre i tre colpici Ossia Mick My Red E Paul Avevano usato decisamente Troppa benzina Ma davvero una quantità spropositata Tradotto Quello era un disastro annunciato Perché nessuno sarebbe mai riuscito a estinguere le fiamme Una delle prove chiave che presenta l'accusa È il residuo di combustibile rinvenuto Sugli indumenti che i tre imputati indossavano quella notte Tutti e tre avevano una piccola quantità di benzina sui loro vestiti Non era tantissima Ma era sufficiente perché gli analisti Riuscissero a stabilire con certezza Che era dello stesso identico tipo utilizzato per ampiccare l'incendio in casa Questa è una prova schiacciante della loro colpevolezza Questa prova unita alle varie testimonianze Per la giuria è sufficiente I tre imputati vengono dichiarati Colpevoli di omicidio colposo Alla lettura della sentenza Mick ha le braccia concerte E si limita a scuotere la testa Ma non dice nulla E non lascia trasfaire alcun sentimento L'unico che in effetti dimostra un minimo di timore Alla lettura della sentenza È Paul Moseley Quando i tre imputati sono stati scortati fuori dall'aula Anche i presenti lì a seguire il processo Non sono riusciti a trattenersi Ad esempio tra la folla C'era la sorella minore di Myred Che prende, si alza e li urla contro Che lo sapeva fin dal primo giorno Che era lei la colpevole L'aveva capito da subito Da quella mattina in cui lei e sua madre L'avevano raggiunto in ospedale Dopodiché la sorella di Myred Inizia a insultarla Quindi deve essere allontanata per forza dall'aula Per il ruolo di ideatore Di questo assurdo e maldestro piano Mick Philpot Viene condannata all'argastolo Il giudice lo descrive come una persona inquietante E pericolosa Senza un minimo di morale Myred e Paul invece Vengono condannati a 17 anni di prigione Queste ultime due sentenze Secondo parenti e amici Sono state un po' troppo clementi E lo credo anch'io Onestamente tra tutti La personalità che meno comprende in questa storia È quella di Myred Possiamo pensare che la donna fosse totalmente In baglia di suo marito? E che quindi eseguisse il suo ordine Senza neanche porsi la domanda Del perché lo stesse eseguendo? Beh in questo caso il tribunale Secondo me si Sarebbe dovuto parlare Di capacità di intendere di volere Cosa che non è stata menzionata Manco per sbaglio Mick è chiaramente la personalità Che più mi ha sorpresa e spaventata In tutta questa situazione In quanto per un motivo davvero Insulso È arrivato a commettere un atto terribile Senza neanche manifestare il minimo dispiacere Solo una persona senza cuore Senza affetto può comportarsi così Chiariamo è Anche Myred si è comportata così Ma non so fin dove la manipolazione Di suo marito Si è arrivata Quindi alzo le mani Anche se Myred ha fatto esattamente Quello che le ha ordinato suo marito Mick è un soggetto egocentrico Tutto ciò che lo riguarda Diventa per lui di estrema importanza Al punto che Non gli interessa assolutamente Di ferire qualcun altro È perennemente concentrato su se stesso Qualsiasi cosa faccia È questa la chiave di lettura Per comprendere fino in fondo Il suo comportamento egoistico Oltre alla sua palese incapacità Di comprendere gli effetti Delle proprie azioni sulle persone O comunque Di preoccuparsene veramente Inoltre Non prova alcun rimorso Perché non è in grado Di mettersi nei panni Delle altre persone In pratica L'uomo non ha alcun problema A fare del male agli altri Perché non si rende conto Delle reali conseguenze Delle sue azioni Di conseguenza Non è neanche in grado Di pentirsene L'uomo sceglie appositamente I compagni Da poter manipolare Infatti tutte le compagne Che ha trovato Mick Erano sempre Donne giovani E in difficoltà La priorità di Mick Quindi è sempre stata quella Di avere il controllo Sulle proprie partner E questa situazione Poteva ottenerla Solo circondandosi Di partner Che avevano materialmente Bisogno di lui Ecco perché credo Che l'ergastolo Per Mick Sia più che giusto Mentre sottolineo Che a mio parere Per Myred e Paul Ci sia stata una sentenza Fin troppo gentile Arriviamo a settembre 2013 Quando la casa di Victory Road Viene demolita In quanto Dopo aver sentito Il parere della comunità Le autorità Hanno annunciato Di voler costruire Nuove abitazioni Sul posto Detto questo ragazzi Ho finito di sprolocchiare In questo video Voi cosa ne pensate Di questo caso? Fatemi sapere Tutto quello che volete Qua sotto Nei commenti Cosa ne pensate Di questo caso? Cosa ne pensate Della storia Di Myred E di Mick? La conoscevate? Non la conoscevate? Fatemi sapere Quello che volete Qua sotto Nei commenti Detto questo ragazzi Io vi mando Un bacione Noi ci vediamo Prestissimo Nel prossimo video Mi raccomando Fate i bravi E continuate a mangiare Le verdure Che continuano a far bene Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi